Protesta contro la pessima organizzazione del lavoro al Policlinico di Bari questa mattina davanti alla struttura ospedaliera dei sindacati e lavoratori. Il senso di responsabilità dei dipendenti, spiega Michele Schinco, segretario della CISL Funzione Pubblica di Bari, non può prescindere dai diritti dei lavoratori e dagli standard di sicurezza. Sicuramente alla base della protesta è la carenza degli organici che stiamo attraversando in questo periodo storico. Nonostante le nostre rivendicazioni dove abbiamo scritto sia al Presidente della Regione sia al nostro Direttore Generale in tempi non sospetti di poter avviare un piano emergenziale che poteva rispondere alle esigenze sia degli operatori ma sicuramente anche degli utenti che purtroppo si ritrovano oggi ad avere una carenza assistenziale che crea ulteriori problemi proprio sulle spalle della situazione pandemica che oggi come oggi, almeno qua al Policlinico, sta vedendo anche decimare gli stessi operatori sanitari. Stiamo parlando di quasi 50-60 contagi al giorno. Questo è comunque un segnale di un mancanza di un percorso relativo alla sicurezza del lavoro che noi stiamo rivendicando. Se aggiungiamo anche che gli accordi minimi stipulati anche a livello regionale, parliamo del premio Covid, non ci è stato riconosciuto. Se a questo aggiungiamo anche che siamo una delle poche aziende in Italia dove non ci viene riconosciuto il servizio mensa per gli operatori, che sono costretti a volte anche a fare due o tre turni perché non riescono ad avere la sostituzione. Questa situazione giustamente ha portato a uno stato di disagio dei lavoratori. Dunque, pessima organizzazione del lavoro, verticistica, autoreferenziale, irrispettosa del confronto sindacale, vissuto come un'incombenza fastidiosa e puramente formale e grave carenza degli organici. Allora, praticamente questa situazione di emergenza ha fatto spostare del personale in area Covid, andando a discapito di quello che è il lavoro di reparto, che non è rallentato. Praticamente non si riesce più a coprire i turni perché anche a turni già fatti, spostando questi lavoratori, sono rimasti turni scoperti che o li copri con lo straordinario o addirittura tante volte facendo il doppio turno, calcolando che non è neanche il servizio mensa, eccetera, eccetera, questo va veramente a discapito sia della salute mentale del lavoratore che dell'assistenza al paziente. Al momento la situazione è drammatica. Consideriamo che il personale, soprattutto infermieristico, sociosanitario e anche amministrativo, è sotto organico. A seguito di quiescenza purtroppo al momento non c'è sostituzione. Oppure si provvede con degli incarichi temporanei, i quali sono già scaduti da diversi mesi.